Allora, questo è Rotonda, cioè la Rotonda, però qua è scritto Rotonda, quindi chiamiamo la Rotonda di Piazza d'Armi, la Rotonda di Piazza d'Armi, eh sì sì, è chiamata così perché ricorda la forma della Rotonda di Piazza d'Armi, in onore, eh infatti, questo alle nostre spalle c'è il Tempietto, che già l'abbiamo visto, ricorda il Tempio di Vesta, ma anche il Pantheon, nonché le cappelle del Cimitero dell'Aquila, giusto? Sì sì, e poi qua si scende questa scala, la Scala Santa, ecco vi faccio vedere, attenzione, dove mettere i piedi, qua ci si può affacciare e vedere il panorama del piazzale delle pigne, lì a sinistra c'è il Persephone, e ancora più a sinistra c'è il cane Cepero, altre Cepero. Poi, la prossima volta abbiamo portato una telecamera e faccio vedere. Sì sì. Qua abbiamo questa nicchia che ci ricorda sempre questa idea di questo gemellaggio, la città dell'Aquila, naturalmente questa, come potete vedere, ci ricorda le nicchie della scalirata di San Bernardino, però non ci stanno le scritte, quindi purtroppo non sono state decorate dai nostri mastri eroi. Queste sono le mura ciclopiche, come tutte le mura ciclopiche, non potendo gli antichi farle perché è impossibile, come fai a fare delle mura così, chiaramente sono stati aiutati dagli alieni, tutte quante le mura ciclopiche sono state costruite dagli alieni, quindi andiamo verso l'uscita, guadagniamo l'uscita. Grazie. Grazie. Grazie.